attenzione nanni sul caso rob mcquack a proposito attenzione piccoli aggiornamenti gaia era tra gli amici stretti di rob a me non mi ha mai ex di nanni giusto dico bene sembra ufficio di office infatti se vi ricordate al pub e ora no per non è uno sdicio cosa ve lo ricordate che lo dissi anche al pub o in live no con gaia buonanima che dissi che gli dissi ora ma perché hai messo che hai amici stretti a me no ora lo sai perché è la cosa pubblica come me mi sono sentito di commentarlo così cosa che non faccio mai è scritto e non ricordo non ero in me ti posso dire un commento che mi è venuto a me di scrivere che non ho scritto non ho ancora detto tu nanni pavido io avrei scritto ok io penso nanni pavido ah ok stava a pitturare in effetti stava a pitturare nanni ottimo schizzo è giusto ma pure pure michel sta schizzando molto bene si riferiva a quello Gianluca a michel no a nanni no 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 michel comunque questo anche per supportare la teoria dell'arem praticamente femminile battaglia la pischella dei nanni sì nanni no bellissimo la pischella dei nanni è bellissimo insomma diversi mesi fa probabilmente perché non pensava che io fossi adatto ai suoi contenuti devo essere sincero nonostante io e Gaia ogni tanto onestamente ci scherzavamo su assolutamente scarso nanni a dipinge comunque mamma mia dice ma bippa al sugo si guarda se vede la colonna dietro l'albero guarda roba non ho mai se vede la colonna forse quando colorerà l'albero non si vedrà più non lo so direi ne mi è mai stato detto e questo lo dico veramente onestamente con la mano sul cuore non ho mai visto nessun ne mi è mai stato detto di nessun contenuto particolare ecco se a volte c'era tipo non lo so una tipa e ciucciava una banana c'è roba di sto tipo se tu decidi di mettermi negli amici stretti e negli amici stretti di mettere la foto del tutto è come se tu avessi deciso di inviarmi la foto del tuo cazzo sì veramente mi darebbe abbastanza fastidio ti direi non è mai detto metti la foto di manuxo non ho sentito cazzo avete inviato le mie foto del cazzo di manuxo di manuxo stai facendo ma perlomeno un neanche chi è manu chi è un neanche tanto ormai iniziano a diventare tutte sillabe manuxo bibixo nexux piccuczux c'è non c'è 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 dalle amici stretti per favore ho finito il bianco scherzo 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 mi ha spezzato questo non sa che devo chiedere a roba scherzo 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 pavido ma gli voglio bene gli voglio bene a roba ma che puoi bene pavido ok per favore ho finito